Nome? Barbara. Cognome? Turno. La sua città di provenienza? Summona. Il suo titolo di studio? Maestra d'arte applicata. Quali sono le sue capacità professionali? Come cuoca, quindi anche aiuto cuoca, macellaia, aiuto pizzaiola. Quali esperienze professionali ha già avuto? Queste che ho elencato, sì. Le sue attitudini professionali? Piace fare tanto la macellaia, sì. Che tipo di lavoro cerca? Questo. Perché un'azienda dovrebbe scegliere proprio lei? Sia per la serietà, ma anche perché conosco bene i pericoli del mestiere, su adoperare i coltelli, insomma, questi strumenti che potrebbero essere pericolosi in mano a un'altra persona.